Musica Questo bel finale del Guglielmo Hotel di Rossini ci ha fatto da sigla di apertura. E' un'area dinamica, avvolgente, a spirale, dà l'idea della costruzione di qualcosa, per esempio di una torre. E pensare che quest'area si basa su uno scheletro ritmico che era un segnale, anzi era per l'esattezza il segnale di rientro delle vacche dal pascolo. Ta, 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 ta. Poi Rossini ci ha costruito sopra una sua aria. Mentre va a questo motivo il coro dice Tutto cangia, il ciel sa bella, l'aria è pura, il dirraggiante, la natura è lieta anch'ella. La vicenda è finita, l'eroe ha vinto, la libertà del popolo svizzero è assicurata. Noi ci prendiamo solo quel primo versetto. Tutto cangia, il ciel sa bella. Che il nostro cielo si abbellisca, la cosa è un po' incerta. Che tutto cangi invece, questo è certo. Ed è esattamente ciò che cercheremo di raccontare stasera. Professor Barbero, buonasera, che gioia averla qui tra noi. Grazie. No, no, le dico la verità, i suoi giudizi storici stasera ci saranno particolarmente preziosi. Come avrà sentito dall'introduzione, noi cercheremo col suo aiuto e con l'aiuto di altre persone che interverranno di capire che cosa ci sta succedendo. Perché che ci stia succedendo qualcosa di molto importante è chiaro. Ma la natura, non dico le conseguenze, che chissà, ma la natura forse va chiarita meglio. Secondo lei, guardi professore, le faccio vedere, guardi questa pianta. Qua abbiamo quelle due zone rosse, uno è il Medio Oriente dove c'è la tragedia israelo-palestinese e l'altra lassù è l'altra tragedia tra la Russia e l'Ucraina. Ma questo è niente, cioè è una cosa enorme. Ma EU sono due conflitti particolarmente vicini a noi, anche geograficamente, all'interno di un quadro generale ancora più allarmante. Guardi che cos'è l'Africa, guardi che cos'è l'Asia, il subcontinente asiatico là sopra e poi l'estremo, il lontano Oriente laggiù. Allora, la sua risposta a questa allarmante situazione qual è? La mia risposta è innanzitutto che mentre noi che viviamo in questo istante siamo qui adesso e pensiamo a tutti questi conflitti e in particolare i due più vicini a noi, quello tra Russia e Ucraina e quello tra Israele e Palestina, pensiamo a questi conflitti come parti di un'unica realtà. Però secondo me bisogna anche stare attenti perché questi conflitti hanno radici poi diverse. Mi verrebbe da storico da dire che è un caso, sa? Se in questo stesso momento ci sono quelle due guerre che ci angosciano così vicine a noi. Perché sono talmente diverse le loro radici che secondo me le capiamo meglio separandole che non pensandole insieme come invece ci viene naturale fare. Pensi che invece io ho avuto un'altra impressione, lei dice da storico, io da profano, da lettore di giornali. Io ho avuto un'altra impressione, cioè che queste decine di punti di squilibrio mondiale messi tutti insieme diano un segnale di allarme. Nel senso come se fosse finita un'epoca. stessimo passando da, semplifico rozzamente, lei per carità abbia comprensione, stessimo passando da un'epoca cominciata nel 1945 con l'egemonia nordamericana e l'imposizione tra l'altro della lingua inglese come lingua globale ad un'epoca in cui quella supremazia è messa in discussione, focolai, sorgono focolai fomentati tra l'altro molti da altre potenze in modo da rendere evidente che quella fase è finita. Condivido o no? Sì, no, questo lo condivido assolutamente. Mi viene da pensare che di quei due conflitti, uno però, cioè l'ennesima tragedia in Israele, se fosse accaduto vent'anni fa o quarant'anni fa non ci saremmo mica stupiti tanto. Cioè lì ci sono delle dinamiche che purtroppo mi sembra, pur con cambiamenti a ogni generazione, però ormai da tanto tempo tendono a ripetersi. Mentre 30-40 anni fa l'idea di una guerra tra Russia e Ucraina sarebbe stata completamente inconcepibile e su questo ha perfettamente ragione. Quindi nell'insieme è certo che è così, che è finito un mondo. Noi abbiamo, preparando questa puntata, abbiamo fatto un ragionamento e cioè abbiamo visto, analizzando cose che lei sa benissimo, analizzando grosso modo la storia, che ci sono stati vari momenti in cui questo o quel potente, sovrano, imperatore, arciduca, ha cercato, per così dire, di fermare il mondo. Uno dei primi momenti che ci è venuto da analizzare è a Roma, dove tra i tanti monumenti che ci sono e allora c'è quella magnifica memoria da Augustea che si chiama Ara Pacis, l'Ara della Pace. E allora abbiamo chiesto al professor Luciano Canfora se ci faceva il piacere di andare lì, all'Ara Pacis, e di raccontare che cosa fu quel tentativo di Augusto di fermare la storia, per così dire. E Canfora ha risposto così. È un'opera molto abile dal punto di vista propagandistico perché la struttura è curiosa, c'è un altare al centro e intorno il recinto e questo recinto parla con gli argomenti tipici della propaganda augustea. Tutto celebra la riconquistata pace, la serenità, la prosperità, una conquista di cui Augusto è per forza inevitabilmente fiero, cioè la fine non soltanto delle guerre civili che sono durate un tempo lunghissimo, ma anche delle altre guerre. Quindi Pax Augusta. L'Ara deve rappresentare una svolta nella storia umana congruente con un'altra svolta che egli fa credere essere avvenuta, cioè il ritorno all'ordinamento antico repubblicano. Egli ha descritto se stesso e tutta la sua opera nelle celeberrime e per noi preziosissime res geste. E al Senato i suoi eredi che parlano a nome suo, dicono ricordatevi che ho incominciato con un colpo di Stato. A 19 anni ho fatto un esercito privato e ho imposto a me di essere console a 19 anni. Quindi un colpo di Stato a 18 carati. Il tutto però per vendicare l'uccisione del padre, liberare la Repubblica da chi la opprimeva. e quindi sempre perbenisticamente presentato questo suo agire, tutt'altro che legittimo, come un ripristino di legittimità. L'Ara Paces deve simboleggiare in un oggetto di grandissimo impatto il significato che egli ha voluto dare al suo governo. La parola pace è la parola chiave. Uno storico di molto successivo, Tacito, fa dire a un capo barbarico, britannico, nemico di Roma, vittima di Roma, che là dove i romani fanno il deserto la chiamano pace. E quindi la parola pace è certamente una parola propagandistica. E poi il terzo secolo dopo Cristo, un secolo di crisi diffusissima in tutta l'area dominata da Roma, crisi dovuta a fenomeni interni, ma anche a fenomeni esterni. Comincia una pressione fortissima dall'esterno che i romani sapientemente hanno cercato di contenere cooptando, inglobando. In globale è difficile. Loro sono stati capaci di coniugare il predominio violento e il coinvolgimento soprattutto dei ceti dirigenti. L'analogia è tra che cosa? Tra l'antica Roma, le prese con il suo impero da conservare e l'impero americano che scricciola? Direi che l'analogia principale è la seguente, un po' grossolana come tutte le analogie, però servono a capire. Augusto decise di fare coi parti un accordo durevole perché non ce la poteva fare e aveva benissimo capito che il mondo era più grande dell'impero romano, molto più grande. Oggi abbiamo un impero cinese e un impero americano che fa acqua da varie parti. È auspicabile che come Augusto realizzò un accordo, la stessa cosa avvenga ora, l'alternativa essendo a dir poco catastrofica. Veda professore, quello che mi è piaciuto dell'analisi che fa Canfora è che anche oggi ci troviamo davanti ad un equilibrio di potenze mondiali che si sta fortemente alterando. 30 anni fa, lei diceva, 40 anni fa, chi avrebbe potuto immaginare che la potenza, la superpotenza americana potesse essere messa in discussione, minacciata, da un'altra potenza quasi equivalente? Oggi questo è diventato vero. Allora, o trovano l'accordo o, come dice Canfora, l'esito potrebbe essere catastrofico. Certo. Sa cos'è? Il problema degli imperi è che devono essere guidati da gente molto realistica e pragmatica per riuscire ad accordarsi con un altro impero. Perché nella storia umana gli imperi, per loro natura, ogni impero tende a pensare di essere l'unico, di essere universale. Canfora dice giustamente Augusto ha fatto un accordo con i parti, ma ufficialmente un imperatore romano non avrebbe mai ammesso che i parti erano un interlocutore paritario. Noi, Roma, siamo i padroni del mondo. Poi ogni tanto, per puro caso, in certi punti dobbiamo fermarci, ma quelli sono sempre barbari e il mondo è nostro. E tutti gli imperi tendono a ragionare così. Ci vuole molta freddezza per riuscire a uscire da questo schema. E la sua sensazione oggi è che questa freddezza ci sia? No, in questo momento specifico non si vede mica tanto. Forse i cinesi ce l'hanno, ma io non li conosco abbastanza e nessuno di noi temo li conosce abbastanza per saperlo. Sì, anche perché i cinesi sono sempre stati e tuttora rimangono un'entità chiusa, compresi i cinesi presenti in Italia o in Europa, che rimangono a loro volta o delle entità chiuse in se stesse difficilmente avvicinabili. Ora, quello che ci dobbiamo chiedere secondo me è questo mondo che è uscito dal secondo conflitto mondiale diviso in Oriente e Occidente per semplificare, afflitto da una guerra fredda che è andata avanti, Dio sa se noi lo sappiamo, noi in Italia che siamo stati lungo il crinale di quella guerra fredda tra Oriente e Occidente, avendo tra l'altro il maggior partito comunista del mondo occidentale. Ecco, quell'equilibrio instabile, ma equilibrio, detto qualche volta equilibrio del terrore per via della minaccia, reciproca minaccia atomica, oggi non c'è più. Allora, quello che io temo dovremo vedere, mi dica lei se è una previsione, temo dovremo vedere un infittirsi di questi conflitti locali che sono fintamente locali, perché molti di questi sono fomentati da una o l'altra delle grandi potenze e fino a quando quella frase terribile di Papa Francesco che la terza guerra mondiale a pezzi è già scoppiata non avrà una prova definitiva. Sì, però ricordiamoci anche che anche la guerra fredda funzionava così con questi conflitti combattuti per conto terzi. Lei diceva prima siamo stati afflitti dalla guerra fredda. a me per un attimo è venuto da pensare o siamo stati benedetti dalla guerra fredda poi mi sono detto no, certo i vietnamiti o i coreani ma noi europei tutto sommato noi vivevamo in quell'epoca in cui si sapeva benissimo che le due superpotenze si detestavano ma si combattevano solo in certi luoghi marginali come per prova. Ecco, se fossero così i conflitti di adesso allora non vorrebbe dire che stanno preparando diciamo la terza guerra mondiale magari stanno preparando la nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina io ci metterei quasi la firma devo dire. Ha ragione vi faccio fare una breve interruzione doverosa in questo programma e poi torneremo subito a parlare di questo. professore Borbero io vorrei portarla su un altro terreno di confronto possibile vediamo se ci riesco varie volte tra le tante volte in cui qualcuno ha cercato di bloccare la situazione per garantire un periodo di equilibrio e dunque di pace potremmo pensare al congresso di Viena ora il congresso di Viena è che vediamo in questo bel dipinto con tutti i congressisti riuniti il congresso di Viena quando io ero ragazzo forse anche lei anche se lei è un uomo molto moderato vero politicamente assolutamente assolutamente opinioni ortodosse da ragazzo ero un po' più inquieto e il congresso di Viena lo vedevo male perché era l'inizio soprattutto in Italia della restaurazione e tra l'altro ero confortato dall'opinione di Giacomo Leopardi che anche lui vedeva male la restaurazione in realtà con una maggiore maturità dopo qualche anno ho capito che il congresso di Viena mi dica lei se sbaglio il congresso di Viena è servito a bloccare la situazione europea praticamente per un secolo perché dopo il tumulto di Napoleone Waterloo 1815 congresso di Viena 1815 dura fino al 1914 cioè fino allo scoppio della prima guerra mondiale è giusto o no? è giusto e certo il congresso di Viena dopo aver impedito a Napoleone di fare l'Europa Unita perché a sentire Napoleone lui dopo ha sempre detto se mi lasciavano fare io facevo l'Europa Unita con capitale a Parigi pensi che meraviglia ecco invece no gliel'hanno impedito e hanno creato un'Europa degli stati nazionali un'Europa delle potenze che in effetti è sopravvissuta per un secolo volevano fare anche un'altra cosa però al congresso di Viena volevano anche bloccare le rivoluzioni i carbonari il liberalismo e lì non ci sono riusciti per fortuna e le nazioni perché gli imperi cominciavano a sgretolarsi a cedere nei legamenti lo sappiamo ben noi che avevamo il Lombardo-Veneto eccetera quello però sostanzialmente a livello di potenze il congresso di Viena è servito a tenere fermo l'Europa ma infatti l'Europa dello scoppio della prima guerra mondiale era un posto dove convivevano paesi come dire stati nazionali moderni come la Francia o la Gran Bretagna e anche l'Italia a sua moda e imperi arcaici come appunto l'impero austro-ungarico l'impero ottomano quindi in effetti loro davvero da quel punto di vista hanno congelato l'Europa per un secolo se noi dovessimo indicare tornando all'attualità qual è il momento in cui la Pax Americana del 1945 dico così per semplificare si è incrinata e rotta io le faccio vedere un documento io lo indicherei lì anche perché c'è un valore simbolico è l'inizio del ventunesimo secolo oggi abbiamo avuto una tragedia di un'esercizio due avanti 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 in un'esercizio in un'esercizio terrorista su nostro lande wake me up when September ends terrorismo against our nation will not stand in un'esercizio in un'esercizio in un'esercizio per la prima volta la fortezza america veniva attaccata esperienza che noi europei abbiamo conosciuto tante volte ma gli americani mai e quello è stato un punto di discrimine lei è d'accordo? io sono d'accordo nella percezione che gli americani avevano del mondo perché sicuramente loro si erano illusi che la Pax americana fosse sopravvissuta alla fine della guerra fredda di aver vinto la guerra fredda quindi per loro è stato uno shock e per molto tempo io ho pensato sì certo è stato un avvenimento storico colossale grandioso l'11 settembre spaventoso e grandioso però se questo se dovessi dire che secondo me adesso questo ha cambiato la storia del mondo io avrei qualche dubbio tranne in quei paesi che noi abbiamo invaso in conseguenza ecco la storia dell'Iraq o dell'Afghanistan è cambiata davvero tanto a partire da quel momento e poi è cambiata la percezione che gli americani potevano avere ma in realtà loro loro non lo sapevano ma la Pax americana secondo me era finita già prima perché la Pax americana non si basava sull'America padrona del mondo ma sull'America che guidava metà del mondo e l'altra metà era il mondo orientale il mondo sovietico per l'appunto e si reggeva sulla guerra fredda alla fine la Pax americana e quindi la vera fine di quel momento è la caduta del muro lei dice 89 sì almeno bisogna sempre stare attenti a dire questa è la vera ecco insomma no scendiamo un pochino io tenderei a pensarla così Barbero la storia è sempre stata fatta quando comincia l'età moderna 1492 non è vero è cominciata prima è cominciata dopo infatti io chiedo ai miei studenti di solito in che giorno è cominciata l'età moderna e qualcuno mi dice ancora il 12 ottobre a quel punto io chiedo e a che ora è cominciata l'età moderna e lì si rendono conto che appunto non si deve fare così la storia mi viene in mente un aneddoto il professore una volta ci disse raccontandoci la rivoluzione spiegando la rivoluzione al liceo la rivoluzione francese dice perché è difficile capire quando comincia voi pensate che un signore parigino tornando a casa il 14 luglio del 1789 abbia detto a sua moglie sai cara sono passato per piazza della Bastiglia credo che sia scoppiata la rivoluzione francese è improbabile allora lei dice caduta del muro alla quale dopo due anni tre viene corrisponde la caduta il crollo dell'unione sovietica lì si viene giù un mondo avevamo c'è un'immagine simbolica fortemente simbolica che è la maire a bandiera sulla torre del Carmelino io le dico quel giorno ecco vedi lei diceva prima a che ora è cominciata io quando ho visto al telegiornale quel giorno che era il 91 credo no? si ho visto quella scena ho detto ecco questa è la storia che si compie anche lei? si 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 ma devo dire quel momento specifico non me lo ricordo mentre invece quando il telegiornale quella sera ha detto hanno aperto il muro di Berlino e mia moglie è tornata a casa e io le ho detto sai hanno aperto il muro di Berlino e avevo le lacrime agli occhi me lo ricordo ancora adesso anche perché ci illudevamo che tutto sarebbe è andato meglio dopo e lì ci sbagliavamo e lì ci va perché tra l'altro veda una delle conseguenze del crollo dell'Unione Sovietica parlo per me che sono un profano una delle conseguenze è che io ho scoperto dopo il crollo che l'Unione Sovietica aveva nell'ambito del suo impero tutta una fascia meridionale musulmana i famosi stati che finiscono in Stan di cui non avevamo mai io non avevo mai sentito parlare perché erano sotto silenziati come si dice sotto il tallone dell'Unione Sovietica e sono oggi una delle fonti del tumulto mondiale certo ma l'Unione Sovietica in realtà appunto gli analisti ci avvertivano allora guardate che questo non è soltanto una grande potenza slava è anche una grande potenza turca e potenzialmente islamica e certamente la dimensione islamica veniva come dire schiacciata ma c'era era radicatissima anche in epoca sovietica io ricordo io me ne ero interessato un pochino i generali del Kagebe delle repubbliche in Stan poi venivano sepolti nei cimiteri musulmani con il rito musulmano e questa coesistenza incredibile c'è ancora anche nella Russia di oggi perché anche la Russia di oggi ha le sue minoranze mongole turche asiatiche islamiche i tatari è un mondo molto più composito di quello che noi da lontano ci immaginiamo tra l'altro con l'affacciarsi nella storia di quelle repubbliche o stati musulmani entra nel conflitto mondiale un elemento che fino a quel momento era stato tenuto dico sotto il tappeto tanto per dire e cioè l'elemento religioso ma certo la prima volta in cui io da giornalista come ero allora in maniera militante mi sono reso conto che entrava nell'elemento religioso fu nel 1979 quando l'Iran spodestò lo Shah e un vecchio santone che viveva a Parigi e si chiamava Khomeini prese il comando del paese quello quello è stato un momento spaventoso o no? è stato un momento di cambiamento profondissimo tanto che ecco abbiamo fatto un altro salto indietro di dieci anni io avevo detto l'89 ma lei adesso giustamente dice il 79 quando comincia a cambiare quest'altra cosa ed è verissimo perché non solo le religioni in generale non sembrava che fossero più importanti ma in particolare non in Europa e l'Islam però noi occidentali lo ignoravamo totalmente anche perché venivamo da secoli nel corso dei quali i nostri antenati europei avevano detto ma l'Islam i maomettani si dicevano una religione in declino dopo l'epanto non se ne era più parlato e invece poi si è scoperto che quella religione forse più del cristianesimo nel mondo oggi ha una capacità ha un impatto una capacità di mobilitare i cuori e le anime e anche la violenza dell'uomo si ha ragione molto più del cristianesimo il quale in Europa il cristianesimo come religione a parte la fede dei singoli ma come religione collettiva globale capace di mobilitare in Europa e ormai lo sanno lo sapeva anche quel grande teologo che è stato Ratzinger che la chiesa da questo punto di vista in Europa è ancora vigorosa in altre zone del mondo l'America Latina un po' di Africa ma ormai quella religione mentre ha ragione la religione musulmana è aggressiva vivace giovane vorrei dire violenta a suo modo è rivendicativa perché ha la percezione di essere stata non la religione islamica in sé ma tutto quel mondo di essere stato colonizzato sottomesso e di esserlo tuttora parlo di percezioni nella percezione il Corano legittima quella che noi chiamiamo la guerra santa il jihad in realtà è una cosa un po' diversa ma insomma è la guerra in difesa della fede ma il Corano è chiarissimo in difesa quando siamo attaccati dopodiché ogni imam è padrone di pensare che il predominio occidentale nel mondo è già di per sé un attacco per esempio ecco vede caro Barbero io speravo che da questa conversazione di cui la ringrazio venisse fuori un'idea chiara invece mi devo rendere conto che non viene fuori un'idea chiara non deve invitare uno storico se vuole che venga fuori un'idea chiara mi domando chi dovrei invitare viene fuori un guazzabuglio perché per esempio le ultime parole che lei ha detto mi fanno venire alla mente che pochi giorni fa ho letto che i giovani musulmani di seconda e terza generazione in Francia o in Germania dove sono una percentuale considerevole della popolazione reclamano una loro identità a costo di affermarla con atti brutali mi ricordo faccio un esempio ancora meno ma molto significativo la nazionale di calcio francese che è composta in buona parte da musulmani non canta la marsigliese cioè arriviamo che quel conflitto che avevamo l'Europa con potenza coloniale aveva esternalizzato e soffocato nelle terre lontane in parte è diventato richiesta di indipendenza in parte è stato introiettato ce l'abbiamo in casa perché lei lo ritiene grave questo sa come dire io a questo punto devo dire che mentre il cittadino che vive nel nostro presente è preoccupatissimo ma non ha la minima idea di che cosa ci aspetta lo storico fa automaticamente dei paralleli con quello che è già successo e dice certo noi esseri umani siamo così io sono uno che si occupa del medioevo nel medioevo che è stata un'epoca molto lunga e molto gloriosa da tanti punti di vista era normale anche da noi pensare che l'identità fosse innanzitutto religiosa un uomo del tempo di Dante pensava a se stesso se gli avessimo chiesto avrebbe detto io sono un cristiano poi certo sono francese sono fiorentino ma innanzitutto sono un cristiano e io credo che nel mondo islamico tuttora questo modo di concepire la propria identità sia importante è più importante essere musulmano generalizzo al massimo ma insomma in molti casi che non essere francese o essere marocchino certo che c'è anche quello perché le identità sono plurali sono tante tutte insieme però quella religiosa per loro è ancora la più forte come è stata la più forte per noi in passato per tanto tempo e a quei tempi eravamo noi che andavamo a invadere la Palestina per conquistare Gerusalemme e facevamo le guerre sante anche noi le famose crociate che erano adesso è inutile che abbiamo il capitolo delle crociate come vede lo storico è qui per portare confusione sì lo storico porta confusione ma se lei dovesse lei ha toccato il punto politico prima nella sua risposta perché questa confusione questa convivenza di fedi diverse è diventato un elemento della vita politica molto importante ci sono partiti leader politici che vivono di questo additando continuamente il pericolo che queste presenze virgolette estrane comporta quindi vede che uscito dalla porta è rientrato dalla finestra il fatto del fattore religione e a questo punto uno capisce perché invece nella storia umana è così forte la spinta a creare degli imperi che non concedono libertà non concedono autogoverno o al massimo all'elite ma che in realtà appunto non danno soddisfazione alle spinte identitarie però costringono a vivere in pace tutti insieme cristiani musulmani romani e barbari a seconda delle epoche tutta la storia umana è fatta di questa dialettica gli imperi che vogliono allargarsi e imporre la pace con la forza e quando invece crollano perché la gente invece a un certo punto preferisce la libertà nazionale l'autogoverno però allora allora il livello di conflittualità pensi ai balcani che per secoli oppressi dai turchi ti dicono adesso oggi i bulgari i greci a loro scuola insegnano per secoli i turchi ci hanno oppressi ma nessuno faceva delle guerre nei balcani sotto il dominio turco appena l'impero turco si è disfatto i balcani sono diventati la polveriera del mondo come diceva si è certo di fatti prima della prima guerra mondiale c'erano state le guerre balcani ma veda però c'è un altro elemento che va a vantaggio lo ha sfiorato prima Canfora e poi ha parlato d'altro i romani i romani nella loro non quelli di oggi i romani di allora nella loro infinita saggezza che facevano tolleravano qualunque religione dei popoli che facevano parte dell'impero anzi come lei sa meglio di me loro prendevano un simbolo un simulacro una statuetta sacra di quella religione di quella religione di quella e la portavano a Roma tal che il barbaro venendo a Roma e andando in Campidoglio trovava il simbolo della sua religione e questo creava quello che lei ha detto aumentava il senso della pace nell'impero questo è venuto meno poi quando da un tollerante plurireligiosità si è venuti ad una religiosità mono eh sì infatti mi viene da pensare che uno dei motivi per cui i romani che tolleravano tutti tranne i cristiani e che hanno perseguitato i cristiani è uno dei motivi per cui li perseguitavano e che pensavano che i cristiani fossero intolleranti perché i cristiani non ammettevano che ci sono anche altri dei oltre al nostro il dio dei cristiani è un dio geloso come dice la Bibbia e quindi i cristiani agli occhi dei romani erano della gente che negava gli altri dei ma come vi permettete di negare gli altri dei siete degli atei allora dicevano i romani ai cristiani e poi effettivamente i monoteismi invece si negano l'un l'altro vorrevo indicarle per tornare all'attualità sa parlare con lei è così stimolante che uno se ne va di qua e di là un po' a vela torniamo invece all'attualità c'è un momento in cui nel dopoguerra si è cercato di dare una solidità alla convivenza tra le nazioni con la fondazione delle Nazioni Unite era il 25 aprile del 1945 e credo se non sbaglio che abbiamo un filmato che ricorda quel momento a San Francisco i delegati di 50 nazioni si sono incontrati per dare vita all'organizzazione delle Nazioni Unite il presidente Truman è arrivato da Washington per firmare lo storico accordo presente anche il primo ministro Molotov dell'Unione Sovietica per perseguire la salomonica speranza dell'uomo di vivere in pace le nazioni sono unite i cinque grandi Cina, Russia Gran Bretagna Francia e Stati Uniti guidano i popoli del mondo lanciando lo stato di diritto internazionale e la carta dei diritti umani uno stato di diritto che nessuna nazione grande o piccola che sia oserebbe sfidare nelle Nazioni Unite è stato istituito un tribunale incaricato di mediare le controversie internazionali e di far rispettare le sue decisioni che prova hanno dato le Nazioni Unite complessivamente rispetto al fine per il quale erano state costituite Devo dire che se si pensa come dire alle grandi speranze iniziali e cioè che davvero l'ONU sarebbe stato capace di mettere fine alle guerre su questo nostro pianeta si rimane un po' delusi poi ti viene da dire ma siamo ingenerosi perché le Nazioni Unite ancora oggi sono un'organizzazione immensa che interviene in mille ambiti che porta sollievo comunque e aiuto in mille luoghi del mondo e quindi diventa anche un po' ingeneroso come dire parlare di un fallimento però se ne parla se ne parla perché invece la capacità di mettere fine davvero ai conflitti o anche di evitare le peggiori atrocità come nel caso del Ruanda o nel caso della Jugoslavia stavo pensando a quello d'altra parte ci sono invece giustamente lei ha detto delle agenzie delle Nazioni Unite che svolgono un'opera per esempio noi a Roma come sappiamo abbiamo la FAO che è Food and Agricultural Administrator che si occupa del cibo e dell'agricoltura che svolge onorevolmente una sua funzione quello che sicuramente le Nazioni Unite e l'ha detto ma vorrei ribadirlo con un bel documento che abbiamo non sono non sono riuscita a fare è portare la pace anche perché forse è impossibile portare la pace al genere umano noi abbiamo chiesto a un suo collega storico di andare in un luogo enormemente suggestivo della prima guerra mondiale e raccontarci che cosa è stata l'illusione di poter non avere più guerre ci ha risposto così ci sono pochi posti che restituiscono meglio di quello in cui ci troviamo adesso l'apparente non senso della grande guerra siamo nelle cannoniere del monte San Michele per conquistare questo colle sono morte decine di migliaia di persone decine di migliaia di soldati italiani decine di migliaia di soldati austriaci che lo difendevano per secoli gli europei si sono combattuti sui campi di battaglia per secoli la grande guerra è stata una normalità e gli europei ritenevano ovvio che nella vita di un maschio adulto prima o poi si potesse combattere solo che tutto questo termina qui termina sul monte San Michele termina sui campi di battaglia di Fiandra termina nel momento in cui la guerra totale rivela il suo volto più brutale la morte non è più eroica essere coraggiosi o valorosi non ha più alcun significato perché nelle battaglie io posso essere ucciso da un colpo di cannone sparato da chilometri di distanza da una raffica di mitragliatrice da una nube di gas come quella che venne usata qui proprio sul colle San Michele la seconda guerra mondiale in qualche modo sviluppa al massimo livello l'idea dell'industrializzazione della morte si muore a centinaia di migliaia perché si viene bombardati dal cielo le città vengono rase al suolo dai bombardieri pesanti si muore nei campi di prigionia si muore nei campi di concentramento e alla fine nel 1945 l'ultimo atto della guerra viene deciso con una nuova arma che è la bomba atomica quale europeo può dire dopo il 1945 torneremo a farlo ancora tutto questo ha un senso è chiaro che la guerra non ha più senso soprattutto perché l'Europa è umiliata è distrutta è divisa è impoverita dopo il 1945 comincia comincia un sogno un'illusione in Europa l'illusione che la guerra sia uscita dall'orizzonte del possibile peccato che questo sogno europeo a un certo punto si scontri con la realtà e lo fa già alla fine del ventesimo secolo gli europei in qualche modo fanno finta di non vedere o si voltano dall'altra parte quando la guerra ritorna alle porte di casa nostra la guerra è una ex Igoslavia facciamo finta che il collasso dell'Unione Sovietica porti solo speranza e non disordine si cominciano a rivedere i focolai di guerra e poi alla fine nel febbraio del 2022 i carri armati e l'artiglieria ritornano alle porte d'Europa e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è qualcosa che ha un impatto traumatico sulla coscienza europea gli europei ricominciano a pensare alle armi la pacifica Germania che badava solo ai commerci e alle industrie decide di riarmarsi forse l'aspetto più sconvolgente del modo in cui la guerra è tornata nelle nostre vite è il ritorno di un elemento che pensavamo scomparso la trincea per tutti noi trincea vuol dire grande guerra il grande massacro industriale il non senso i soldati che vivevano nel fango per giorni per settimane per mesi nelle trincee si mangiava si dormiva e soprattutto si moriva la guerra che noi sognavamo deumanizzata una guerra tutto sommato sterile in cui non si versava più sangue in cui la morte era qualcosa di lontano è tornata a essere una guerra fatta di carne di sacrificio e naturalmente di cadaveri il professor Marco Mondini che probabilmente lei conosce insegna Padova ridotto a un'estrema sintesi vuole dire abbiamo cercato di cacciare la guerra dall'Europa tra l'altro costruendo l'Unione Europea e invece la guerra è tornata a cercarci anche proprio dentro il nostro non dentro l'Unione ma dentro il continente è terribile questo sembra sembra veramente Barbero qui più che lo storico voglio interpellare l'intellettuale sembra che noi non riusciamo a liberarci dall'istinto della violenza dalla eredità di Caino dalla volontà di uccidere non possiamo farlo se in tanti secoli di storia umana non è mai successo temono di dover dire che non succederà mai ma io anche tendo a pensarlo al di là del fatto che rimango sempre colpito da come si parla di questa guerra tra Russia e Ucraina come la guerra che ha ricordato a noi europei che esiste ancora la guerra così vicino a noi e l'amnesia su quello che è successo in Jugoslavia è totale la Jugoslavia era molto più vicina a noi era lì a un passo dai nostri confini basta passare il nostro confine e trovi ancora i cimiteri di guerra pieni di ragazzi ammazzati negli anni 90 in Croazia ecco e noi quello l'abbiamo un po' rimosso dopodiché certo anch'io tendo a pensare che l'idea stessa di abolire la guerra è stato un fatto storico è stato un avvenimento l'Europa del Novecento era così scioccata dalla prima guerra mondiale che è nata questa idea che prima sì nel Settecento Kant aveva scritto un progetto per una pace eterna però non ci credeva nessuno invece nel Novecento europeo ci hanno creduto davvero che la prima guerra mondiale fosse l'ultima e poi nonostante la seconda la seconda in fondo era una guerra giusta e quindi nonostante quello si è continuato a crederlo però invece appunto ci sono parti del mondo dove gli statisti hanno continuato a pensare che fa parte delle prerogative di uno Stato quando ha un problema non risolto fare la guerra ai suoi avversari oggi ci sciocca ma tutti gli stati della storia hanno sempre dato per scontato questo lei ha detto una cosa pericolosissima alla quale potrebbe essere potrebbe essere attaccata la guerra giusta ha introdotto un concetto come lei sa sul quale si è discusso dai tempi di Paolo di San Paolo certo e di Sant'Agostino di Sant'Agostino fino ai nostri giorni ma ovviamente non lo solleveremo qui ma che la seconda sia stata giusta e che abbiano vinto quelli che stavano dalla parte giusta giusto farla non lo so ma hanno vinto quelli che stavano dalla parte giusta quello io mi sento di dire francamente condivido la ringrazio molto di essere stato con noi veramente questa puntata inaugurale di questo programma insomma si è molto giovato del suo equilibrio della sua competenza adesso però io faccio vedere mentre lei torna a Torino più o meno eh sì faccio vedere una cosa un aspetto importantissimo di quello che sta accadendo forse non siamo riusciti a stabilire quale è stato esattamente il punto di rottura della Pax americana nata diciamo nel 1945 grosso modo forse ci sono stati vari momenti le torri comeini il muro non lo so forse non lo sa nessuno però una cosa sappiamo che il fattore economico ha avuto un grosso peso sull'andamento degli avvenimenti e su questo particolare elemento noi abbiamo ascoltato Lucrezia Reichlin valente economista che lavora a cattedra a Londra nell'università economica la quale ci ha dato la sua risposta grazie Barbero spero alla prossima quando vuole io credo che le radici comuni dei due conflitti in corso il Medio Oriente l'Ucraina e la Russia siano una crisi geopolitica basata appunto sulla crisi di un ordine mondiale che è stato disegnato più di 80 anni fa e che oggi non regge non regge per delle ragioni economiche e quindi anche politiche le ragioni economiche sono l'indebolimento relativo degli Stati Uniti rispetto a nuovi protagonisti mondiali e qui penso soprattutto alla Cina e alla crisi del sistema diciamo sovietico che ormai è una crisi di molti anni fa che però ha lasciato la Russia ai margini di una ordine mondiale che non la vede più come protagonista e credo che questa sia l'origine comune di questa crisi e che la rende quindi molto pericolosa perché la soluzione non è ovvia e se la soluzione non si trova questa crisi potrebbe quindi espandersi al di là di un conflitto semplicemente regionale o di due conflitti regionali e coinvolgere le grandi potenze che sono dietro queste crisi regionali e qui penso alla Cina all'Iran e all'Arabia Saudita insomma agli altri protagonisti del mondo globale non solo ci sono nuovi protagonisti che hanno nuove aspirazioni ma ci sono anche nuove sfide si pensi per esempio al cambiamento climatico che ha delle enormi diremazioni anche nella distribuzione del reddito mondiale perché il riscaldamento climatico la mancanza la diminuzione di biodiversità hanno un effetto sull'agricoltura sui prezzi dei beni alimentari e quindi sulla povertà nel mondo dopo la crisi del covid e dopo la crisi ucraina per esempio la proprietà del mondo che era in diminuzione era stata in diminuzione per decenni ora è di nuovo in aumento il fondo monetario la banca mondiale non sono pronti a essere quelle istituzioni in grado di risolvere questi problemi per ripensare alla nuova governance nel sistema globale ci sono due scenari positivi e auspicabili il primo è quello appunto di ripensare alle istituzioni uscite da Bretton Woods l'altra gamba di questo ripensamento dovrebbe essere un sistema meno burocratico e forse più flessibile in cui si possa pensare anche in modo flessibile a coalizioni di paesi che si mettono insieme per raggiungere certi obiettivi con la Cina forse non si può fare tutto insieme ormai gli interessi sono molto divergenti però alcune cose si possono fare insieme per esempio io penso che sul clima la Cina sia molto aperta a fare cose insieme perché chiaramente nessun paese da solo può risolvere il problema del clima Mentre andava in onda questa bella intervista di Lucrezia Reiklin ci ha raggiunto il dottor Maurizio Molinari direttore di Repubblica grazie di essere venuto buonasera noi l'abbiamo pregata di venire perché lei ha scritto un librone bello bello e chiaro perché io che ho una capacità di comprensione limitata adoro i libri chiari dove mi si spiegano le cose e io le capisco che è una cosa che non succede sempre perché lei qua dentro racconta racconta descrive quali sono le aree di crisi principali e dopo essere andati un po' in giro nel mondo aver cercato di capire in questo continente e in altri dove sono i punti di maggiore tensione vorrei che con lei tornassimo verso il Mediterraneo verso casa diciamo e cercassimo di capire un po' che cosa succede subito fuori della nostra porta prima però le vorrei fare una domanda su quello che è successo prima come ha visto nella conversazione con Barbero abbiamo cercato di capire in quale momento la Pax americana che è cominciata diciamo nel 45 con la fine della seconda guerra mondiale ha cominciato a sgretolarsi lei ha un'idea? l'11 settembre del 2001 l'america ha guidato le democrazie nel secolo scorso prima contro il nazifascismo e poi contro il comunismo sovietico in entrambe le sfide le democrazie hanno vinto l'11 settembre del 2001 quello che avviene è che la jihad di Osama Bin Laden presenta le democrazie all'america la nuova sfida il nuovo nemico delle democrazie è il jihadismo un'idea di sottomissione del mondo a un'ideologia violenta che travisa il testo del Corano con l'intento di eliminare dalla faccia della terra tutti coloro che non la pensano come lui il jihadismo che attacca l'11 settembre l'america è lo stesso jihadismo che esprime lo stato islamico di Abu Bakr al Baghdadi ed è lo stesso jihadismo che ha aggredito Israele il 7 ottobre e qui la volevo sapevo che lei che è così vicino a Israele sarebbe andato là guardi io ho un'idea la reazione tremenda che hanno avuto gli Stati Uniti dopo l'11 settembre quando le torri quell'attacco senza precedenti ha giustificato ha motivato quella reazione io mi sono fatto l'idea che c'è un parallelo con l'attacco del 7 ottobre perché per la prima volta dalla nascita di Israele nel 1948 gli israeliani che pensavano di avere costruito un foyer un focolare all'interno del quale scampare finalmente alle persecuzioni pogrome hanno dovuto constatare che non era vero che anche all'interno di quel loro confine potevano essere uccisi e questo ha scatenato una reazione devo dire forte molto forte forse troppo forte lei d'accordo? è il nemico della nostra generazione è un nemico del cristianesimo delle democrazie degli ebrei di tutti i musulmani che non la pensano come loro anche dei palestinesi il punto vero è che continua a sorprenderci l'11 settembre il 7 ottobre ma anche attenzione le decapitazioni dello stato islamico perché esercita la violenza in una maniera brutale medioevale come tutti noi non riusciamo neanche a immaginare lei vuole raccontarci partendo da questo libro io le faccio vedere abbiamo isolato delle mappe che ci riguardano perché stanno proprio una poi riguarda l'Adriatico l'ultima che vedremo cioè le spiagge dove andiamo a fare il bagno questa è la prima mappa lei ha un puntatore io la vorrei pregare di indicarci allora diciamo il primo elemento fondamentale di questa mappa è che il Mar Nero fa parte del Mediterraneo lo stretto del Bosporo e dei Dardanelli spiegano perché la Russia ha aggredito l'Ucraina il motivo per cui Putin vuole l'Ucraina è che vuole la città di Odessa esattamente come lo zar Pietro il Grande l'impero russo non può esistere come non poteva esistere senza San Pietroburgo ma senza Odessa per Putin Odessa è lo sbocco al Mediterraneo e ai mari del sud per questo nel 2014 annette la Crimea e per questo adesso sta combattendo per cancellare l'Ucraina dalla carta geografica la Crimea che tra l'altro è stata a lungo contesa e concupita dalla Russia già da da tempi molto allora lei dice il Bosforo eccolo là in basso a sinistra e poi i Dardanelli sono lo sbocco nel Mediterraneo vecchio sogno già zarista di poter entrare in questo mare questo però dal punto di vista nostro europeo italiano ci preoccupa ma sul piano globale c'è un'altra mappa che volevo che lei ci illustrasse che invece è questa qui vediamo il teatro medio orientale sul quale forse si possono dire delle cose molto precise allora il primo elemento cioè il tema del libro è che il Mediterraneo è conteso il Mediterraneo è conteso perché le grandi potenze la Russia la Cina e gli Stati Uniti ne hanno bisogno di fatti guardi volevo ricordare il sottotitolo perché l'Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno conteso la Russia come abbiamo visto nel Mar Nero ne ha bisogno per lo sbocco nei mari del sud la Cina ne ha bisogno per costruire la via della seta che arriva dall'estremo oriente attraversa l'Iran e arriva nel Mediterraneo per raggiungere i mercati dell'Europa occidentale e gli Stati Uniti da sempre hanno bisogno del Mediterraneo per difendere la sua frontiera sud in questa partita fra le tre grandi potenze il Mediterraneo è centrale e tentiamo di capire perché il disegno cinese è quello di impossessarsi di questi corsi d'acqua il Mar Rosso il canale di Suez per essere di fatto la potenza egemone nei mari di accesso al Mediterraneo perché lei deve portare semplicemente le sue merci e i suoi servizi verso il Mediterraneo per questo la Cina ha costruito nel corno d'Africa ma anche sta costruendo in alcune zone del Golfo delle formidabili basi militari questi però sono nel caso dell'Arabia Saudita dell'Omane del Bahrain degli Emirati Arabi di Israele sono anche alleati americani e poi c'è il disegno dei russi i russi puntano invece sull'Iran vogliono cioè smantellare le alleanze fra gli Stati Uniti e i loro alleati facendo leva sull'Iran e sui gruppi militari che l'Iran ha attorno ai confini di Israele incluso Hamas per sfidare la pace americana in Medio Oriente è il grande gioco nel Mediterraneo che si gioca nel Medio Oriente ora in questo grande gioco si è inserita con una certa peso la rabbia saudita che noi vediamo là dentro ci può raccontare che gioco sta facendo la rabbia saudita a parte di averci rubato per così dire l'expo 2030 l'espezione universale del 30 una delle caratteristiche del Mediterraneo nel quale viviamo è che oltre alle tre grandi potenze che sono in lite per controllarlo ci sono delle medie potenze che fanno fondamentalmente solo i loro interessi una è l'Arabia Saudita un'altra è la Turchia un'altra ancora è l'Iran sono grandi paesi che hanno grandi risorse economiche nel caso della Turchia anche militari nel caso dell'Arabia Saudita fondamentalmente energetiche come abbiamo visto nel risultato di Expo 2030 che puntano fondamentalmente solo a fare i loro interessi e allora questo principe di cui tanto si parla che si chiama Mohammed bin Salman Mohammed figlio di Salman che cosa che gioco gioca perché per esempio lui era pronto a fare un accordo con Israele se l'attacco il massacro del 7 ottobre non l'avesse al momento interrotto il gioco del deserto nel deserto dell'Arabia Saudita e della penisola araba è fra tre grandi sovrani uno è Mohammed bin Salman il principe ereditario dell'Arabia Saudita che punta la pace su Israele ma fondamentalmente perché vuole creare un'area economica che l'Arabia Saudita domina con il sostegno degli Stati Uniti il secondo è Sheikh Mohammed MBZ questo è il suo soprannome che governa gli Emirati Arabi Uniti e che è un alleato ma anche un rivale di MBS e il terzo è l'emiro del Qatar alleato dell'Iran protettore di Hamas l'emiro Altani che in realtà sfida tanto gli Emirati quanto l'Arabia Saudita ma il Qatar è un paesuccolo ma l'emiro è un personaggio formidabile e feroce che come avviene nelle tribù del deserto è capace di sbaragliare chiunque con la ferocia e l'abilità del suo pensiero insomma si gioca guardi la mia idea lei dice Mediterraneo Conteso la mia idea è che il grande gioco che nell'Ottocento si giocava in Afghanistan c'è quel magnifico libro oggi si gioca lì in gran parte io sono assolutamente d'accordo e siccome accelera questo gioco ogni giorno che passa l'unica maniera per tentare di comprenderlo è riscoprire la geografia cioè scusi i cambiamenti sono talmente veloci che non basta la descrizione dei fatti la cronaca il ricordo della storia bisogna seguire anche come cambiano le mappe geografiche bello questo è per questo che questo libro è pieno di mappe per questo abbiamo suddiviso il Mediterraneo in dieci mappe diverse ognuna delle quali vive di luce propria vediamo l'ultima che possiamo mostrare che è quella appunto del mare Adriatico eccolo qua allora qui che succede il mare Adriatico è fra gli angoli più contesi di tutto il mare Mediterraneo perché perché per la Cina l'unica maniera di fare la maniera più veloce per far arrivare le proprie merci in Europa Occidentale è arrivare portare le proprie navi fra Trieste e Venezia per la Russia insediarsi di nuovo come potenza egemone nell'Europa dell'Est significa essere una potenza dell'Adriatico gli Stati Uniti invece giocano in difesa ed è affascinante ricordare come la Repubblica di Venezia interpretava il Mediterraneo come una grande strada blu con la quale arrivare in Oriente ora cinesi russi americani tutti hanno bisogno di questa grande strada blu che arriva fino a Venezia e Trieste questa sua analisi mi sorprende mi spaventa un po' perché il Mediterraneo è proprio la porta di casa e mi chiedo però se non ci potrebbero essere dei vantaggi per noi Italia e per Trieste Venezia Ravenna i porti interessati nell'Adriatico del Nord da questo nuovo afflusso io credo sinceramente di sì e credo che il maggior vantaggio strategico che il nostro paese ha non è solamente di essere come Kissinger diceva una porta aerei nel bel mezzo del Mediterraneo ma di avere la sovranità e il controllo sull'isola della Sicilia se il Mediterraneo è il cuore del mondo la Sicilia è il cuore del Mediterraneo e se conta quello che avviene nella superficie del Mediterraneo dove duellano le potenze ancora più conta il duello sui fondali del Mediterraneo cioè scusi che c'entrano i fondali adesso i fondali del Mediterraneo passano i cavi con le fibre ottiche che portano dall'estremo oriente al Nord America dall'Asia all'Africa all'Europa i dati le informazioni grazie alle quali noi viviamo ogni giorno la maggioranza di questi cavi sottomarini tocca il territorio della Sicilia e quindi la Sicilia oggi è il cuore del mondo esco da questa conversazione le dico la verità un po' frastornato grazie adesso per rinfraccarmi vado su un terreno dove mi sento più sicuro leggo una frase dal principe di Machiavelli dove quel genio nel 1513 stabilì una volta per tutte che cos'è la legge della politica che possiamo applicare benissimo alle cose ai territori e alle potenze che lei ha appena ricordato vado lì a leggere grazie senza doppiezze e senza astuzia tutti lo capiscono non di meno l'esperienza dei nostri tempi mostra che hanno fatto grandi cose quei principi che hanno tenuto in scarso conto la parola data e che hanno saputo raggirare con l'astuzia i cervelli altrui alla fine questi principi sono stati superiori a quelli che non hanno fatto ricorso a inganni dunque dovete sapere che ci sono due modi di combattere l'uno con le leggi l'altro con la forza il primo è proprio dell'uomo il secondo delle bestie ma siccome il primo molte volte non basta bisogna ricorrere al secondo perciò a un principe è necessario saper usare bene sia la bestia sia l'uomo alla prossima l'uomo l'uomo Grazie a tutti. Grazie a tutti.